Musica Buonasera dottor Dri, ben ritrovato, amministratore delegato di gruppo Servizi Associati che ha la sede a Ferretto Umberto. E qui il nostro ospite questa sera, buonasera a lei, il nostro ospite per parlare di LPU, intanto ci faccio una cortesia, ci spieghi cosa consiste, gli amici a casa magari non lo sanno, di cosa si tratta LPU e qual è il suo rapporto con l'azienda GSA. Bene, allora premessa, intanto ringrazio, vi ringrazio dell'invito, è un piacere poter essere presenti in tv, essere presenti nella vostra televisione e a presentare di fatto un'attività che in questo momento credo che abbia un'importanza da ben evidenziare. Che cos'è, cosa sono i lavori di pubblica utilità? È una forma che la regione Filonezza Giulia, attraverso il contributo della comunità economica europea e comunque nell'ambito di una progettualità più ampia, ha portato per permettere a persone che hanno, che nel momento non sono nel mondo del lavoro e che risultano essere disoccupate, di poterle ricollocare nel mondo del lavoro, da una porta principale con una prospettiva di reinserimento a medio termine e in questo senso sono stati fatti dei bandi. Come gruppo servizi associati abbiamo partecipato, abbiamo partecipato a questi bandi, siamo stati risultati soggetto attuatore di una quota a parte importante di questi. Come le dico, gli argomenti principali sono permettere a persone disoccupate che non hanno in questo momento molte, visto il momento economico difficile, e nello specifico il momento particolarmente difficile per quanto riguarda l'ambito del lavoro, ecco appunto dicevo a queste persone di essere collocate nel mondo del lavoro. Come soggetto attuatore GSA crede proprio per la sua presenza, come mi ricordava lei, importante sulla regione perché noi partiamo da questa regione, abbiamo la sede, la direzione generale in Friuli Venezia Giulia, siamo una società Friuli Venezia Giulia centrica se posso permettermi. Sì, sì, certo. È chiaro che diventa per noi importante dare un riscontro sul territorio, da dove partiamo e dove siamo presenti. Non le nego che noi oggi come oggi stiamo impiegando in Italia circa 2200 persone, quindi abbiamo circa 2200 dipendenti. È importante dare il nostro contributo per quanto ci è possibile nell'ambito del lavoro, nell'ambito della nostra regione. Quindi la nostra presenza, la nostra partecipazione ai progetti LPU deve avere questo filo rosso che ci lega, cioè favorire il lavoro in Friuli Venezia Giulia. Questo è molto importante. Nello specifico, dottor Dri, se parliamo di valorizzazione del patrimonio, è uno degli argomenti che voi trattate. Insomma, voi aprite la porta, prima parlava di porta, voi siete la porta che permette a questi lavoratori di poter trovare un'occupazione. Una di queste occupazioni riguarda la valorizzazione del patrimonio. Mi riferisco in particolare modo a una serie di comuni, ma andiamo per gradi. A Fagagna, ad esempio, mi sembra che proprio a Fagagna voi puntiate su questo, cioè voi valorizzate il patrimonio. Cosa vuol dire per la gente a casa magari meno esperta? Ma guardi, in realtà la gente a casa e i stessi cittadini di Fagagna possono vedere con mano le attività prestate. Stiamo parlando di fatto della situazione della manutenzione delle aree pubbliche, delle aree verdi, gli ambiti che fanno sì che la stessa città e il suo substrato siano gestiti dal punto di vista manutentivo. Quindi in realtà molti concittadini di Fagagna avranno visto delle squadre, delle squadre marchiate GSA che operano sul territorio, che stanno facendo le attività di manutenzione, di piccola manutenzione, di attività che sono le attività con cui si vede una buona gestione e valorizzazione di quelli che sono il patrimonio urbano, il matrimonio del pubblico che abbiamo in ogni realtà. Nella prima fase abbiamo fatto i lavori socialmente utili e quando la Regione ha dato questa possibilità abbiamo anche partecipato a questo tipo di intervento. Noi abbiamo molte proprietà sul territorio comunale per i servizi che diamo alla GEDE ed in particolare abbiamo l'Oasi dei Quadri che ha bisogno di una certa quantità di servizi manutentivi e per le bestie che sono lì vi presenti e per la messa in sicurezza per l'apertura e l'utilizzo e la visita delle persone ed in particolare in primavera quando torneranno le scolaresche. In questa condizione noi abbiamo affiancato queste persone che non avevano purtroppo lavoro, le abbiamo affiancate ai nostri dipendenti per cui molti interventi, ripeto, che non eravamo in grado di farli direttamente come Comune per mancanza di personale, riusciamo a dare un servizio oltre che a loro anche alle nostre comunità. Significa utilizzare al meglio il patrimonio comunale che noi abbiamo, parte disponibile e parte indisponibile, per metterlo al servizio oltre che della comunità di Fagagna anche delle altre comunità. perché le osi dei quadri, per esempio, come chiese Cochelle, ormai sono non un patrimonio solo di Fagagna ma è un patrimonio della regione sostanzialmente perché vi affluiscono persone, ragazzi, studenti, giovani da tutta la regione e da fuori regione. Rappresentano un piccolo compendio della storia dei Friuli. Grazie a tutti.